Un caro saluto a tutte e a tutti. Come sapete si torna a parlare di flat tax, di cosa si tratta? Si tratta della tassa piatta. Già nella scorsa legislatura era stato fatto un passo per la riduzione della pressione fiscale per quanto riguarda i liberi professionisti e le cosiddette partite IVA, fissando per un reddito annuo fino a 30 mila Euro una liquota del 15%. L'attuale governo ha alzato questa soglia ai 65 mila Euro. Qual è il problema? Il problema è che intanto la stessa condizione non vale per il lavoro dipendente. E in secondo luogo, bisogna dirlo con chiarezza, se si fanno le cosiddette tasse piatte, se si riduce tutta la scala della tassazione a due livelli soltanto, chi sta fino a una certa soglia è il 15% e gli altri il 20%, che cosa succede alla fine? Succede che chi ha molto di più pagherà molto di meno e paradossalmente pagherà di più chi sta al basso della scala delle retribuzioni o delle remunerazioni. Quindi la tassa piatta è il risultato di una idea molto liberista, direi ultra liberista, secondo la quale togliere le tasse ai più ricchi darebbe un vantaggio ai più poveri. Questo non è assolutamente vero, a parte il fatto che questo principio della tassa piatta va contro il dettato costituzionale che vuole una progressività. Ma soprattutto non si può non considerare che negli ultimi decenni questa ricerca di abbassare la tassazione con le tasse piatte a quelli che hanno di più ha portato ad una situazione nel mondo nella quale 26 famiglie le più ricche detengono da sole la ricchezza dei 3 miliardi di cittadini più poveri al mondo. Una incredibile diseguaglianza. Quindi noi diciamo in primo luogo la tassazione per il lavoro autonomo deve avere una corrispondenza anche per il lavoro dipendente. In secondo luogo facciamo attenzione a non avvantaggiare chi ha molto di più anche perché se questo capita queste persone pagheranno meno tasse e il sistema non potrà stare in piedi a vantaggio dei più deboli e questo ci deve fare molto riflettere.